Com'è, com'è quello che mette la maglia alla caldaia lì? La maglietta di Gio Mario, cia cia cialtroni che porta bene, tre gol ci ha fatto Gio Mario. Meno male la maglietta portava bene, leva la maglia dalla caldaia perché chiamo i vigili. La maglietta di Gio Mario che porta bene, tre pere ci ha fatto Gio Mario. Sembrava bella in gamba ieri, sembrava. Comunque ragazzi, cosa ha detto la partita di ieri? Che non esiste nessuna super rosa e bisse che è impresentabile anche se nel secondo tempo ha fatto meglio ma ci voleva poco a fare meglio il primo tempo. È un ragazzo acerbo, non è adatto all'Inter. Klassen sembra uno dei tedeschi in vacanza d'estate con il calzino bianco e il sandalo, te l'ho già detto mille volte. Pascola per il campo è uno che sta a giocare a calcio ma al di fuori dell'Ajax anche quando è uscito e poi è tornato Everton in primis ma anche in Germania non ha mai brillato. Si vede che la sua dimensione era quella, poi sì un premio alla carriera, tutto quello che tu vuoi ma te l'hanno regalato questo giocatore. Pensaci perché te l'hanno regalato. Quindi mi sono piaciuti a me frattesi Augusto Arnatovic ha fatto gol, speriamo gli serva per prendere un po' di fiducia. Sanchez comunque il rigore l'ha tirato bene, peccato perché la potevamo vincere ragazzi. Io però lo so che sto per dire una cosa che è opinabile ma a me Audero è piaciuto perché sui gol non poteva fare nulla. Nelle uscite avete visto ma è forte. Audero è un portiere da riscattare perché ha comunque sempre fatto tutta la trafila nelle nazionali. Sappiamo che purtroppo è stato anche alla Juve ma è un portiere giovane e a 7 milioni va preso perché per me Audero può fare il titolare. Senti che ti dico e te lo dico da inizio stagione perché lo sapevo che Sommer era un gatto tra i pali, era fortissimo. Però il portiere deve anche uscire ragazzi e Sommer non esce. Poi ripeto tra i pali è un fenomeno perché è piccolino, va giù subito ma il portiere deve uscire, deve dare sicurezza alla difesa. Quindi a me Audero è piaciuto, fai come ti pare. Pareggio ottimo, ora bisogna vincere a Milano con la Real Societad, bisogna vincere, prendere assolutamente il primo posto. Il pareggio di ieri è un pareggio ottimo secondo me perché era fondamentale non perdere come è stato buono il pareggio a Torino. Ma il pareggio a Torino è buono se fai risultato a Napoli, attenzione. Altrimenti il pareggio di Torino diventa meno buono. Zaghi nel primo tempo, te l'ho detto, entrava nello spogliatoio, c'erano due o tre ragazzini della primavera, gli ha detto voi andate fuori. Andato dai ragazzi gli ha detto ascoltate bene, io non lo so dove è il cinese, gli ha detto in Zaghi a tutti i ragazzi guardandoli negli occhi. Ma so che possiamo pareggiare. Bravo Simone. Ciao Inter. Grazie a tutti.